La cronaca colpo al narcotraffico internazionale gestito dall'Andrangheta ha catturato in Spagna Giuseppe Romeo, elemento di spicco dell'omonimo clan di San Luca, era ricercato dal 2018, deve scontare una condanna a 20 anni. Gabriella Datri. Il broker della cocaina, in grado di far viaggiare ogni settimana 40 kg di droga tra l'Olanda e Milano, è stato catturato in Spagna. La Guardia Civil, messa sulle sue tracce dagli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria e del Servizio Centrale Operativo della Polizia, lo ha bloccato a Barcellona. Giuseppe Romeo Upacciu, maluferro come veniva soprannominato, 35 anni, latitante dal 2018, era inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi, stilata dal Ministero dell'Interno. La Polizia gli stava col fiato sul collo oramai da mesi, monitorando i suoi spostamenti tra San Luca, in Calabria e il Nord Europa. Era lui, per la DDA Regina, il promotore, l'organizzatore, il finanziatore dei traffici di cocaina gestiti dalla cosca Pelle, Costa Dura, Romeo, disarticolata nel dicembre del 2018 con l'operazione European Drangheta Connection. Un ruolo dunque di primo piano in seno al clan che gli consentiva di stringere accordi tra i fornitori di coca e gli intermediari in Belgio, Olanda e Germania. Su di lui pende una condanna a 20 anni di carcere per traffico internazionale di droga, trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. Operazione di questa mattina in Spagna che ha portato all'arresto di Giuseppe Romeo, premie lavoro e la grande determinazione degli investigatori della Polizia di Stato coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. a queste le parole del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.